Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Prima epistola di Pietro, capitolo 4, versetto 8 Una coperta per tutti Linus è uno dei personaggi centrali del fumetto di Snoopy, ingegnoso e intelligente, ma anche molto insicuro. Porta sempre una coperta per assicurarsi. In realtà, potremo tutti identificarsi con lui, perché tutti abbiamo le nostre paure e le nostre incertezze. Anche l'Apostolo Pietro ne sapeva qualcosa. Quando arrestarono Gesù, infatti, mostrò coraggio, seguendolo nel cortile del sommo sacerdote, ma subito dopo mentì, per salvarsi, e rinnegò il Signore. Tuttavia Gesù non smise mai di amarlo, e alla fine lo perdonò e lo ristabilì come discepolo. L'enfasi che Pietro pone sull'amore e sul suo vero significato, come si legge nella prima lettera di Pietro, capitolo 4, versetto 8, poteva venire solo da qualcuno che ha sperimentato davvero il profondo amore di Gesù. Ecco il motivo per cui si sottolinea l'importanza dell'amore tra fratelli, che hanno sperimentato Cristo, scrivendo Abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una moltitudine di peccati. Hai mai avuto bisogno di questo tipo di coperta? Quando ti senti colpa e hai vergogna di qualcosa che hai detto o hai fatto, hai bisogno di essere coperto, proprio come ha fatto Gesù con molte persone nei Vangeli. Per quanti credono e si fidano di Lui, l'amore di Cristo è una coperta da ricevere, ma anche da dare con grazia e coraggio agli altri. Non siamo soli destinatari di quel grande amore, siamo chiamati ad essere anche i donatori. Per cui, caro amico, credi nel Signore Gesù, per essere tu stesso uno strumento del suo amore salvifico, per gli altri, una coperta, appunto, per tutti. Grazie. 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 Grazie.